Benvenuti nel mondo degli orologi Werenbach. Werenbach è un marchio di orologi di lusso svizzero che ha fatto della sostenibilità ambientale la sua bandiera. Fondato nel 2013 dallo svizzero Patrick Oman, il brand si contraddistingue per l'utilizzo di materiali provenienti da razzi spaziali, conferendo ai suoi orologi un design futuristico ed esclusivo. Il brand ha conquistato un posto di rilievo nel mercato degli orologi di lusso grazie all'alta qualità dei suoi prodotti, all'attenzione per i dettagli e all'impegno per la sostenibilità ambientale. La particolarità dei materiali utilizzati da Werenbach sta nell'origine. I frammenti metallici sono recuperati dai razzi della società russa Soyuz, utilizzati fin dal 1960 per lanciare missioni spaziali. I razzi Soyuz, dopo essere stati utilizzati, si schiantano sulla terra ferma lasciando frammenti di metallo che vengono recuperati da Werenbach per la creazione dei suoi orologi. Il metallo più utilizzato da Werenbach è il titanio, leggero e resistente, utilizzato per la realizzazione delle casse degli orologi. I modelli prodotti dal brand sono caratterizzati da un design avveniristico, con numeri arabi in stile militare e quadranti colorati che richiamano i colori della terra vista dallo spazio. Il modello ERTE è uno dei più rappresentativi della filosofia di Werenbach. La cassa in titanio è caratterizzata da una finitura spazzolata e dal logo del brand in rilievo sul fondello. Il quadrante è realizzato in modo da richiamare le foto della terra vista dallo spazio, con una scala di gradazioni di colore che va dal blu intenso del mare alle sfumature marroni dei continenti. Il modello ERTE è un orologio versatile, adatto sia per un look casual che per un'occasione più formale.